...che la sera tornano a casa stanchi da lavorare, si infilano la tuta da ginnastica e poi vuoi per stanchezza, vuoi per comodità, vuoi per uggia, vuoi per non saper che fare se la tirano su, 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 più in alto ancora su, fin quando non è possibile andare oltre se il maschio non è poi più quel Claire Gabor che abbiamo conosciuto in discoteca se ce l'è ancora che c'era per casa vuol dire che ti va bene anche così ma è per puro gusto estetico che dico ma quella tuta da ginnastica tirata su, su in quel modo quella roba, il vanter, no, che vram scivola tutto da un lato, no, per forza di gravità non è una roba brutta da vedere, cioè quella specie di carrube, quell'ernia laterale quella cosa che, perché è così, perché la tuta da ginnastica non permette che stia in mezzo tra coloro che sono sospesi, capisci, perché c'è la cucitura che fa da divisorio che tal oppure la metti in frigo con una foglionina di menta, va a sapere